Sono stati giovani studenti di 6 scuole piemontesi ad aprire Diamo Voce ai Diritti, il reading organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in occasione del settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il 10 dicembre del 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvava i 30 articoli che per la prima volta codificavano e riconoscevano valori come l'uguaglianza, la libertà e la dignità di tutti gli uomini. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. A dar voce alla carta, leggendo il documento articolo per articolo, sono stati 30 tra uomini e donne, espressione di più mondi in realtà, dalla politica alla cultura, dallo sport alla giustizia. E ciascuno lo ha fatto con un suo contributo e una riflessione personale, frutto del proprio impegno nei diversi ambiti della vita civile e sociale. Quella carta ha 70 anni, ma è facile dirlo, è ancora attuale, viva, moderna. Tante volte vediamo anche gente che vuole cambiare la Costituzione, la Costituzione italiana è la più moderna e avanzata che si possa immaginare. Per quanto mi riguarda, poi leggerò un articolo che riguarda il diritto all'accoglienza e quindi tutto questo all'accoglienza all'asilo, alla dignità, il diritto alla dignità, tutto questo ha grande attinenza anche al presente, perché sappiamo che siamo di fronte a pulsioni spesso xenofobe e anche a atti legislativi in cui si possono anche ravvisare dei dubbi circa la loro Costituzionalità. Stiamo vivendo una situazione difficilissima, cioè stiamo urlando i diritti di qualcuno che in realtà sono dei privilegi e stiamo dicendo che gli altri diversi non hanno posto. Noi prepariamo le capanne, vogliamo i bambini, la paglia, il bue, l'asino, ma il Dio di Gesù Cristo non è il Dio della paglia, il Dio Gesù Cristo è quello in carne e ossa di chi sta arrivando e che disgraziatamente buttiamo a mare. Per me ci sono dei grossi collegamenti anche con il mondo sportivo, con il mondo sportivo paralimpico, perché in effetti tra l'altro proprio in quell'anno lì, nel 1948, per una geniale intuizione di un fisiatra tedesco fuggito in Inghilterra, nacque lo sport per persone con disabilità, quindi tutto ritorna, tutto ritorna e quindi è importante festeggiare queste cose in momenti non facili. La dichiarazione universale dei diritti umani affonda le sue radici lontano nel tempo, in quel Bill of Rights del XVII secolo che è la base dei principi etici del mondo occidentale. Pur non avendo effetti vincolanti per gli Stati, ha ispirato le carte costituzionali di diversi paesi.